Lo storico Palazzo di Giustizia di Corso Garibaldi a Salerno può essere destinato a nuova vita diventando sede di una scuola di formazione nella Green Economy per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione per il turismo ecologico, la valorizzazione dei beni culturali. E' quanto suggerisce l'onorevole Tino Iannuzzi, già parlamentare, membro della Direzione Nazionale del PD, che sulla scorta dell'imminente ed integrale trasferimento degli uffici giudiziali della nuova e moderna cittadella, suggerisce una riflessione per un'ambiziosa e funzionale utilizzazione del prestigioso e monumentale Palazzo del Tribunale di Salerno, di proprietà dell'Agenzia del Demanio. In questi giorni, dopo che è già stata spostata nelle scorse settimane la Corte d'Appello, si sta completando il trasferimento di tutti gli uffici della Procura della Repubblica. A fine mese sarà la volta degli uffici della Procura Generale della Corte d'Appello. I locali del primo piano, sul lato di Corso Garibaldi del Palazzo, saranno invece destinati a sede degli uffici del Giudice di Pace e degli ufficiali giudiziari, sino ad ora rispettivamente ubicati in via Francesco Prudente e in piazza Giacomo Matteotti. Sì, e dobbiamo porci il problema, promuovendo una discussione molto ampia e partecipata, di riservare ai tre piani che rimangono inutilizzati del Palazzo di Giustizia una destinazione che si è in linea con le prospettive di crescita del nostro territorio. Ora noi, ancora di più, all'indomani della tragedia della pandemia, dobbiamo diversamente costruire il nostro modello di sviluppo. Sappiamo che in questi anni tutto quello che si lega alla green economy ha prodotto una serie di risultati positivi di straordinario valore. Sono 3 milioni e 100 i green jobs, i contratti di lavoro legati alla qualità ambientale, oltre 400 mila le imprese che hanno effettuato ecoinvestimenti e sono anche le imprese che producono più export, più innovazione, più coesione con i territori. Le imprese green operano in tantissimi comparti, dall'edilizia alla ricerca, dall'agricoltura di qualità al settore del legno del mobile, dall'automazione alla moda. E sorge la necessità sempre di più di nuovi profili professionali, responsabili di marketing, esperti nell'economia circolare, nel riuso e nel riciclo dei rifiuti, project management, brand ambassador, tecnici meccanici. E sorge anche la necessità di orientare diversamente le professioni tradizionali, perché ci sarà sempre più bisogno di giuristi dell'ambiente, di chimici verdi, di esperti nella fiscalità di vantaggio, negli incentivi fiscali, di bioingegneri e di bioarchitetti. Tenendo conto anche che diventa prioritario l'obiettivo di far crescere la quantità di energia prodotta da fonti pulite e rinnovabili. In tutto questo contesto il nostro territorio ha le caratteristiche per poter crescere lungo una filiera precisa, che è quella della green economy, dello sviluppo compatibile, dell'innovazione, ma anche del turismo ecologico, legata ai nostri borghi antichi, alla nostra qualità paesaggistica e anche ai giacimenti archeologici e storici artistici che noi abbiamo. Da qui io penso la possibilità di destinare ad una sede così prestigiosa, così bella, così autorevole, una scuola di formazione permanente, un polo specializzato di didattica e di ricerca nella green economy, nello sviluppo compatibile, nell'innovazione, nel turismo ecologico, nella valorizzazione dei beni culturali, che può candidarsi ad essere un polo di eccellenza a livello nazionale. Occorre certamente una grande collaborazione per elaborare un progetto condiviso tra comune di Salerno, regione Campani, università, rappresentanze sociali ed economiche e istituzioni culturali. Io penso che sia anche il modo per restituire a Salerno una dimensione universitaria più forte.